Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Time's Gadget. Come molti di voi sapranno, un paio di giorni fa Apple ha finalmente presentato in maniera ufficiale i nuovi iPhone 12. Questi nuovi iPhone di questo 2020, ma anche per il 2021. Dei dispositivi interessanti, molti di voi che mi seguono sul canale sanno sicuramente che non è il mio solito portare questo genere di video, cioè parlare di un prodotto, nel bene o nel male, che ancora non ho potuto provare e testare di persona. Per oggi ho voluto fare un'eccezione e parlare di questi iPhone 12 con voi, delle novità che hanno, ma anche di alcune lacune a livello hardware proprio, e di alcune anche mancanze o comunque cambiamenti anche estetici che mi aspettavo da questi iPhone e che purtroppo ancora oggi non hanno nel 2020. Sono dei cambiamenti, sono delle novità che mi sarei aspettato da un iPhone di top di gamma, di fascia alta, in questo anno, nel 2020, visto anche la concorrenza degli smartphone Android. Quindi oggi vuole essere solamente una chiacchierata e andare a vedere un po' più nel dettaglio tutte le novità che hanno portato questi nuovi iPhone. Ho voluto fare questo video, ci tengo a precisarlo, non tanto per andare a giudicare solamente questi telefoni, ma perché se ne è stati in tanti, e di questo vi ringrazio, a chiedermi in privato, nelle varie chat, nelle varie social network, la mia idea, il mio parere, la mia reazione, qual è stata a freddo quando, dopo la presentazione, sono stati presentati questi iPhone 12. Ecco perché ho voluto portare questo video. So che durante la presentazione è stato presentato anche l'HomePod Mini, ho visto, ma non è un prodotto che oggi andremo a trattare o a parlare, anche perché, prima di tutto, non mi interessa più di tanto, e poi secondo punto, quello più importante, non so nemmeno, anche quest'anno, se arriva in Italia, sul mercato italiano e neanche su quello europeo, quindi quando arriverà e se arriverà poi, l'andremo a vedere, a trattare o a parlare, o male che va, se va bene anche a recensire. Ma andiamo a vedere subito questa nuova serie di iPhone. Allora, quest'anno l'Apple, secondo me, se non ricordo male, è stata la prima volta che ha presentato in una singola presentazione ben 4 varianti di iPhone. Infatti quest'anno abbiamo l'iPhone 12 Mini, che è la novità, diciamo, più particolare di quest'anno, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro e l'iPhone 12 Pro Max. I primi due sono molto simili tra di loro a livello di caratteristiche tecniche e hardware, infatti abbiamo su entrambi una certificazione IP68, abbiamo un nuovo, diciamo, design, dove è stata cambiata solamente la cornice perimetrale, è stata piallata, è stata appiattita, dove abbiamo un design che ricorda molto quello degli iPad, per intenderci, gli iPad Pro, e ricorda anche, in particolar modo, molto i vecchi iPhone 4 o 5, in particolar modo gli iPhone 4, perché sul retro avevamo sempre la scocca in vetro, mentre sugli iPhone 5 e 5S avevamo la scocca in alluminio e in metallo, mi ricordo, satinato, molto bella, una dei design che ho preferito di più, infatti quest'anno mi si è rispettato un retro non in vetro, ma in alluminio, che era molto più particolare e riprendeva gli iPad di oggi, ma comunque su questi nuovi iPhone, sia sui 12, 12 Mini e 12 Pro, abbiamo come unico, diciamo, novità a livello di design e rinnovamento, solamente la cornice perimetrale, dove sugli iPhone 12 è stata pensata in colorazione opaca, satinata, sempre in metallo, chiaramente è tagliata di piatto e quindi anche un po' meno scivolosa rispetto a queste qui di quest'anno, o comunque le attuali 11 e 11 Pro, dove è stondata e tende un po' sempre a scivolare con tutto, e comunque loro hanno fatto un trattamento su questi iPhone, come molti di voi sapranno, antiscivolo, però comunque la preferisco piatta, un po' più spicolosa, mentre sull'iPhone 12 Pro, come vedrete, ce l'abbiamo sempre piatta, tagliata, ma in finitura cromata, in acciaio, inox cromato, in diverse colorazioni, ce l'abbiamo in gold, in bianco, in nero e nella nuova colorazione blu, mentre l'iPhone 12, ai 12 mini, abbiamo tante diverse colorazioni, un po' le regolazioni che riprendono gli attuali iPhone 11. L'iPhone 12 mini, come vi dicevo, è la novità, diciamo, più particolare di quest'anno, perché abbiamo un iPhone molto più compatto, ridotto come dimensioni, ma con la stessa parte hardware dell'iPhone 12, quindi quello più grande. L'iPhone 12 mini ha uno schermo, ha un display da 5.4 pollici, super retina HDR da 476 ppi OLED, mentre l'iPhone 12, quello più grande, ha un display con una diagonale da 6.1 pollici, sempre super retina HDR OLED da 460 ppi, con un display leggermente più luminoso, perché arriva a 1200 nits in HDR, ho letto sul sito, e dovrebbe essere anche leggermente più contrastante, quindi hanno migliorato comunque l'aspetto, diciamo, del display e l'aspetto anche della qualità visiva. Dovrebbero aver migliorato anche un pelino di più la qualità audio, ma poi questo qui sarà da vedere con mano, sarà da testare proprio di persona, sia la parte audio che a livello anche del display, per vedere anche come si comportano. È stata implementata anche un'interessante, diciamo, protezione in più per il display, la Ceramic Shield, che sarebbero dei cristalli di ceramica, se ho ben capito dalla presentazione, installati all'interno del vetro, sopra il vetro, per renderlo più resistente, 4 volte più resistente. Un Ceramic Shield interessante, perché non so quanti di voi hanno fatto caso e quanti di voi hanno l'iPhone. Questi nuovi iPhone, anche questi 11 Pro o 11, ma anche le precedenti generazioni, mi si sono sempre graffiate parecchio il display anteriore. Non tanto graffi molto profondi, ma micro graffietti, quindi spero che con questo Ceramic Shield sia stato risolto questo problema, perché questi micro graffietti che si formano e si vedono parecchio in controluce, sono davvero molto molto fastidiosi, mi hanno sempre dato tantissimo fastidio. Poi abbiamo, come altra novità, il MagSafe, che in pratica è un anello, all'interno degli iPhone sulla parte posteriore, magnetico, che serve non solo per andare a rendere compatibile l'iPhone con le attuali basette di ricarica wireless, ma anche con il nuovo sistema di ricarica wireless magnetico. Il MagSafe si può trovare sullo store di Apple a 39€, un nuovo accessorio per ricaricare in maniera wireless il telefono, ma lo rende compatibile anche con i nuovi accessori, perché l'Apple, come avete visto in presentazione, ha proposto tutta una serie di cover, ma anche una serie di accessori tipo portacarte e portatestere da attaccare sulla parte posteriore del telefono, con, da quanto ho capito, o senza cover. Sì, bella, simpatia come innovazione, ma sicuramente io che recensisco gadget e ne vedo in un po' di tutti i tipi non è una grandissima novità, perché le potremmo già trovare oggi, ve l'ho fatta anche vedere in qualche recensione, sulle nuove cover, per esempio Pitaka, dove queste qui abbiamo già anche scritte all'interno, dove sono compatibili con i magneti e quindi con gli accessori. Chiaramente qui possono essere attaccati direttamente al telefono, è una cosa in più, però nulla di che, nulla di trascendentale. Come novità più grande, cosa che mi stavo scordando su tutti gli iPhone, è stato parlato molto del 5G, perché finalmente tutti questi iPhone, 12 mini, 12 e 12 Pro, hanno tutta la connettività 5G. Una novità a cui io, diciamo, non è che do tanto peso, perché ormai tutti i telefoni hanno connettività 5G, sono arrivati perfino i telefoni a 300 euro con la connettività 5G, e non li do tanto peso in particolar modo perché noi in Italia, secondo me, ancora non è un settore che interessa parecchio. Purtroppo ancora in Italia, ancora non è molto molto estesa, e secondo me non se ne parlerà nemmeno fra un paio di anni. Secondo me, per parlare bene del 5G, e per utilizzarlo a livello quotidiano su tutti i telefoni, qui nel nostro paese se ne parlerà fra 3-4 anni, per come stanno andando le cose. Ad oggi, anche nelle grandi città, anche qui a Milano, sono davvero pochissime le parti dove può riuscire a utilizzare, si può riuscire a utilizzare il 5G, e soprattutto quando si utilizza e quando si prende dove abbiamo un 5G, realmente molto molto più veloce del 4G, come comunque dovrebbe essere e come ci si dovrebbe aspettare, scusatemi. Comunque, quindi, ecco perché non do tanto peso al 5G. È una novità, sì, ok, benvenga, ma sarà la benvenuta quando poi, anche qui in Italia, si potrà realmente utilizzare quotidianamente. Poi, all'interno poi, con altre novità che abbiamo su questi iPhone, il nuovo processore A14 Bionic, di ultima generazione, cosa importante è che ha cambiato il processo produttivo, non più a 7nm, ma a 5nm, quindi è stato leggermente rimpicciolito, quindi sono più piccoli i processori, quindi hanno guadagnato anche spazio. Sulla parte posteriore, a livello di fotocamere, dato che parliamo sempre dell'iPhone 12 e 12 mini, perché abbiamo le stesse caratteristiche interne, cambia solo le dimensioni, e una cosa che mi sono scordato, l'iPhone 12 mini è talmente piccolo che raggiunge quasi le dimensioni dell'iPhone SE, però sfrutta molto di più la parte anteriore, perché è chiaro che abbiamo sempre il classico layout degli iPhone attuali di oggi, quindi con il noccio sopra e tutto schermo, quindi al contrario dell'iPhone SE, che ha i due cornici a noi sopra e sotto. Come vi dicevo, a livello invece della parte fotografica, non ci sono tantissime novità, è stato implementato, è stato migliorato un po' la camera principale su entrambi i dispositivi, quindi sia sull'iPhone 12 che su 12 mini, sono state integrate nuove lenti, quindi sicuramente, probabilmente scatterà delle migliori foto rispetto all'attuale 11, ma comunque abbiamo sempre e solamente due lenti. Abbiamo la ultragrande angolare da 120 gradi e quella principale da sempre da 12 megapixel, perché abbiamo entrambi due camera a 12 megapixel, migliorata quella principale con la stabilizzazione ottica, migliorata anche un pelino nei video, però non sembra nulla di che. Adesso poi queste qui, per quanto riguarda la parte fotografica, sono più convinto di poterne parlare in maniera un po' più incisiva, ma anche vi posso dare una conferma mia, personale, quando poi li vado a provare di personale telefoni. Per adesso non sembra che ci siano state grandissime novità. È stata implementata un pochino di più la parte fotografica, ma poi andiamo a vedere quanto è migliorata questa parte fotografica, andandola a comparare con un iPhone 11. Per quanto riguarda la parte anteriore, le camere sono rimaste sempre da 12 megapixel, sempre con il notch e sempre con la classica cornice. Questa qui è una cosa che mi sarei aspettato che ci fosse stato qualche cambiamento su questi iPhone 2020, comunque questi iPhone 12. Mi aspettavo un notch differente, mi aspettavo, non so, un notch più piccolo, un notch squadrato, visto che abbiamo le cornici tagliate di piatto, mi sarei aspettato anche un notch leggermente differente. Almeno per andare a distinguere quando li mettiamo davanti un iPhone X da un nuovo iPhone 12, ma anche dai nuovi iPhone, dai recenti, dai attuali, iPhone 11 Pro, ma anche dai precedenti modelli, gli iPhone X o XS, sono tutti uguali. Questa qui è una cosa che mi ha deluso parecchio, perché mi sarei aspettato che Apple azzardasse qualche design, qualche cosa in più si buttasse lì sul mercato e proponesse qualche cosa di innovativo. Non dico che stravolgesse tutto il mercato, ma perlomeno, non so, al posto del notch, una versione con una camera a foro, in modo da poter sfruttare a meglio tutto il display anteriore. Oppure, una pazzia, una camera pop-up, che potrebbe essere, poteva essere, la, diciamo, una novità, un'idea, che poteva stravolgere un po' il design, il concetto classico dei telefoni Apple. Sicuramente a molti storceranno il naso perché fa comodo il Face ID, però potrebbe essere comunque una novità, un qualcosa per smuovere il mercato che attualmente, soprattutto quelli degli iPhone, perché è un mercato a sé, è davvero molto, molto piatto, ormai da 3-4 anni a questa parte. Invece, passando al 12 e 12 Pro Max, ah, una cosa che mi stavo scordando, gli iPhone 12 e i 12 mini hanno un prezzo di, che partono da 939 euro, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini da 839 euro, per la variante 64 giga. Ecco, questa qui è un'altra cosa che mi fa veramente stanire, ragazzi. Io abolirei le varianti 64 giga dai 500-600 euro in su. Per il mercato Android ci può anche stare, perché molti poi hanno anche l'espansione di memoria, ma l'iPhone, che non ha l'espansione di memoria, che ha una memoria fissa e che costa veramente, veramente l'idea di Dio l'iPhone, per quello che vi offre. Ho capito che hanno un sistema operativo che è fantastico e che è ben integrato nel loro ecosistema, però ragazzi, ho 939 euro per avere solamente 64 giga di memoria, mi sembra veramente tanto, mi sembra eccessivo. Anche perché poi sapete bene che dovete andare a ricorrere al cloud dove dovete pagare anche un abbonamento mensile, perché è sicuro che con Video 4K come girano questi telefoni, perché anche l'iPhone 12 girano i Video 4K, con una marea di foto che fate, quelle che scaricate, dalle chat che salvate sul telefono, fra tutte e poi le altre applicazioni che scaricate, 64 giga vi posso dire che sono molto, molto pochi oggi, senza contare che poi per i recenti aggiornamenti sugli iPhone serve sempre lasciare un pochino di memoria libera. Quindi secondo me alla fine o si opta per pagare l'abbonamento oppure si opta direttamente per passare alla versione da 256 che vi va a finire oltre i 1000€ e per un iPhone 12 mi sembra un pochino troppi. Comunque, chiusa parentesi sugli iPhone 12 e 12 mini, passiamo agli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. Abbiamo un display su questi modelli da 6.7 pollici per il Pro Max e 6.1 pollici invece su quello più piccolo. anche qui bordo totalmente diciamo piallato è il nuovo bordo e piatto in acciaio con le quattro diverse colorazioni che vi ho detto prima quindi abbiamo la gold abbiamo la bianca che dovrebbe essere un bianco leggermente differente dell'attuale bianco degli 11 Pro degli 11 Pro Max dovrebbe essere un po' più candido poi abbiamo il nero e poi abbiamo la nuova colorazione la Pacific Blue molto interessante e sarà bella da vedere con mano e da vedere comunque di persona. Come novità che cosa abbiamo su quest'iPhone? Allora la maggior parte delle novità e per diciamo il motivo per cui scegliere questi nuovi iPhone 12 Pro rispetto a questi 11 Pro dal quanto adesso da quello che posso vedere dalle novità che hanno detto e hanno lanciato in presentazione ufficiale in particolar modo riguardo nel comparto fotografico perché abbiamo allora prima di tutto tre camere sempre la principale la ultra grandangolare e lo zoom lo zoom questa volta però è stato ampliato è stato migliorato e finalmente è stato livellato con gli atti smartphone attuali ed è stato portato a uno zoom 4x sul 12 Pro e 5x sul 12 Pro Max un'altra cosa che differenzia le attuali versioni 12 Pro e 11 Pro Max dalle nuove 12 Pro e 12 Pro Max è la differenza delle fotocamere non ho capito perché quest'anno Apple ha deciso di variare le fotocamere fra il 12 Pro e il 12 Pro Max infatti non abbiamo solamente uno zoom differente ma abbiamo anche una lente più grande quella principale sul 12 Pro Max infatti è più luminosa rispetto a 12 Pro ma abbiamo anche una stabilizzazione sul sensore sul 12 Pro Max ma non sul 12 Pro lo zoom 5x e 4x che cosa non vi ho detto quello digitale interpolato dovrebbe arrivare fino a un 10-12x diciamo che si va a allineare nulla di nuovo per quanto riguarda diciamo il settore degli smartphone in generale se poi andiamo a vedere il settore in particolar modo degli iPhone questa qui sicuramente è una novità però nulla di nuovo si è andato solamente ad allineare con gli altri smartphone top di gamma dove abbiamo per esempio il Note 20 l'S20 il P40 o tanti altri smartphone o il Mi 10 che hanno questi zoom così spinti ottici altra novità che invece abbiamo su questi iPhone sempre sulla variante Pro e Pro Max sono delle lenti leggermente più luminose un autofocus migliorato anche di notte quindi anche con poca luce sarà interessante vedere come si comportano e poi abbiamo il LiDAR che è un nuovo sistema radar è un sensore che abbiamo posto qui dietro su questi nuovi iPhone che serve per andare a catturare l'ambiente circostante a fare una scannerizzazione e poi riportarla in 3D sul telefono e anche utilizzarla con l'adatta aumentata una cosa che è un po' fino a se stessa a meno che non sia le designer o architetti non so quanto vi potrebbe essere utile giocare con i mobili o giocare all'interno degli ambienti ma una cosa che invece che potrebbe essere utile con il suo nuovo sensore è per le foto bokeh per scattare una foto a soggetti in primo piano senza andare a scattare con la modella Portrait o forse anche con la modella Portrait sicuramente lo aiuterà questo radar questo nuovo sensore riuscirà a capire meglio quali sono i soggetti in primo piano e invece quali sono quelli di fondo una funzione un sensore sì ok comodo utile ma nulla di che nulla di trascendentale poi bisognerà sempre vedere se riesce a distinguere o meno i soggetti perché vi ricordo che questi iPhone anche gli attuali 11 Pro se provo a scattare una foto con l'effetto bokeh io l'ho provato spesso perché mi capita spesso di scattarla ai prodotti che mi arrivano quando vado a scattare per esempio una foto a un telefono non sempre riconoscere bene il prodotto l'oggetto in primo piano o dal piano di fondo riconoscere bene le persone ma hanno sempre avuto problemi nello scontornare i prodotti gli oggetti questa è una cosa che non mi è andata mai giù questo nuovo sensore leader riesca ad andare a colmare questa piccola laguna questo piccolo problema altra poi novità che è arrivata con questi 12 Pro è anche il Photo Raw Photo Raw che potrebbe arrivare si spera che arriverà perché in pratica finalmente gli iPhone dovrebbero essere dotati anche del sabotaggio delle foto in Raw dico dovrebbero perché nella presentazione non hanno retto e lo potete andare a vedere sul sito ufficiale quando andate scendete giù e vedete la caratteristica Photo Raw c'è un piccolo asterisco se voi andate giù in basso leggete l'asterisco coming soon quindi dovrebbe arrivare arriverà presto quindi non è una funzione che arriverà molto probabilmente quando andremo ad acquistare e arriveranno in commercio disponibili in commercio anche in Italia questi nuovi iPhone 12 è una funzione che arriverà più in là speriamo che non sia la stessa cosa che hanno fatto con il Deep Fusion che ci hanno fatto aspettare mesi doveva arrivare subito doveva arrivare a breve poi è arrivato dopo mesi e sinceramente poi prima e dopo con o senza Deep Fusion non è che poi ho trovato tutta questa grande differenza quindi per essere una funzione abbastanza relativa speriamo che arrivi presto altra funzione invece interessantissima che hanno dotato nel comparto fotografio questi nuovi 12 Pro e Pro Max è il Dolby Vision HDR 10 bit in 4K anche con i 60 frame per secondo una funzione interessantissima per i video non vedo l'ora di provarla questa funzione perché è una di quelle funzioni che potrebbe fare la differenza e potrebbe comunque distaccarsi un po' dal resto del mercato secondo me questa qui è l'unica funzione veramente distintiva di questi nuovi iPhone 12 e apprezzo il fatto che finalmente sia arrivato anche il 60 frame per secondo su questi iPhone con il 4K dato che su tutti gli smartphone Android di fascia alta media ma anche delle volte bassa abbiamo il 4K a 60 frame per secondo finalmente è arrivato anche su questi 12 Pro e poi ultima cosa come novità abbiamo la modalità video Pro anche qui finalmente è arrivata la modalità video Pro una cosa che stavo aspettando da tutto tempo che tutti gli altri smartphone Android avevano e che solamente l'iPhone non aveva negli anni scorsi anche su questi modelli attuali si doveva acquistare un'applicazione a parte che hanno fatto vedere la Mimic mi sembra che si chiamasse quella che hanno fatto vedere nella presentazione dell'anno scorso dove inizialmente il costo era di 11€ ma poi con tutte le in app a pagamento per andare a sbloccare tutte le funzioni e per avere poi un'applicazione completa Pro come quella che possiamo trovare anche sull'Android arriviamo a finire a un prezzo di 20-22€ una cosa che secondo me è assurda perché ok va bene non è nulla spendere 20€ quando una ha speso 1500€ ma proprio perché una ha speso 1500€ non vedo il motivo per cui non debba avere anche su questi telefoni una modalità video Pro chiaramente anche i 12 Pro hanno il MagSafe sul posteriore poi andremo a vedere a recensire tutti i nuovi gadget tutti i nuovi accessori chiaramente su questo canale non potranno mancare la recensione di questi accessori cosa che non mi è piaciuto di questi iPhone 12 e questo qui già ve lo posso dire perché sono mancanze che mancano proprio a livello hardware non mi serve provarli e testarli adesso già di persona sono prima di tutto hanno puntato tanto e hanno fatto vedere hanno diciamo dato particolar modo anche enfasi ai giochi perché questi nuovi iPhone sono molto potenti con gli ultimi processori A14 Bionic ma dall'altra parte però mi chiedo perché implementare il Dolby Vision il 4K e poi non implementare un display a 90Hz se veramente questi iPhone sono stati pensati anche per i giochi saranno quanto volete veloci e potenti ma se non avete un display con il refresh rate alto non avrete mai quella diciamo sensazione di fluidità di velocità anche di click che avete sui dispositivi Android con il 120Hz per non parlare poi del 144Hz come abbiamo su ROG Phone 3 queste qui sono alcune caratteristiche che mi sarebbe piaciute e che devono esserci su un terminale di fascia alta non tanto sui 12 o 12 mini ma quantomeno sui 12 Pro e sui 12 Pro Max assolutamente devono essere caratteristiche che ci devono stare devono essere presenti poi altra cosa che mi ha fatto stanire non abbiamo sensori di impronte in un periodo come questo dove lo scanner del viso il Face ID potrebbe essere comodo ma con le mascherine è davvero molto scomodo e non parlo solamente di un periodo breve perché a quanto stiamo vedendo diciamo tramite con i contagi che stanno ampliando e tutto e con i tempi dei vaccini non penso che prima di giugno prossimo settembre prossimo riesca ad arrivare un vaccino e quindi staremmo costretti a portarci queste mascherine fino all'anno prossimo fino quasi alla presentazione di nuovi iPhone quindi mi aspettavo almeno per copire quest'anno un'implementazione e anche per una questione di comodità perché non a tutti è comodo il Face ID di un sensore di impronte sotto al display oppure integrato sul tasto di accensione una cosa molto utile non solo a parte a prescindere adesso da questo periodo con o senza mascherine ma proprio per un fattore di comodità nell'utilizzo quotidiano perché a me per esempio quando ho il dispositivo così appoggiato sul tavolo perché sto lavorando al computer non sempre mi rimane comodo andare a sbloccare l'iPhone perché devo sbloccarlo e poi affacciarmi sopra l'iPhone ed è una cosa scomoda d'inverno non mi riconosce con la sciarpa non mi riconosce d'estate con gli occhiali e col cappello adesso con le mascherine per non parlare perché è diventato proprio un problema sono più le volte che lo vado a sbloccare con il codice che quelle che lo vado a sbloccare poi con lo scanner e poi mi aspettavo un qualcosa di nuovo come dicevo prima di andare a levare questo anche Face ID e provare a vedere come rispondeva il mercato proponendo un display senza notch con un forerino solamente casomai con un sensore 2D come diciamo riconoscimento del volto ma andando a integrare un sensore invece di impronte sotto al display per vedere un po' come rispondeva e per proporre anche cose differenti per smuovere un po' questo mercato dell'Apple per non parlare poi della porta Lightning ancora presente anche su questi iPhone 12 in molti speravano in una porta USB-C invece anche quest'anno non si sono allineati a tutti gli altri smartphone Android e agli altri smartphone presenti sul mercato ma non si sono allineati cosa ancora peggio anche i prodotti interni Apple e vi parlo dei Mac dei MacBook e in particolar modo degli iPad iPad che hanno la porta USB-C OTG quindi può essere anche aperta e possibilità di leggere le pennette esterne mentre sugli iPhone tuttora abbiamo la possibilità solamente di poter passare i file tramite penne SanDisk appositamente pensate con la porta Lightning l'ottotutto rimane molto scomodo dover far caricare i dispositivi con cavi differenti ogni volta che andiamo fuori ma anche quando siamo a casa una cosa che secondo me andava assolutamente cambiata e poi cosa che mi sarei aspettato un caricatore ragazzi un caricatore dentro alla scatola non si può sentire questa qui come ho sentito un video di Montemagno è veramente la più grande supercazzola che un'azienda ha mai potuto fare ma si può dire che non si mette un caricatore del telefono all'interno della sua confezione per risparmiare sulla plastica ma ci penseranno tante altre aziende a risparmiare sulla plastica si potrà risparmiare sulla plastica in tanti diversi modi ma non non mettendo un caricatore di un telefono da 1500 euro nella confezione quando voglio lo compro lo porto a casa e non lo posso caricare a meno che non ho un mio caricatore o delle mie basette wireless a quel punto quindi non ho capito il discorso perché se lo mettono nella confezione è uno spreco ma io poi comunque lo devo andare a comprare e quello lì non è uno spreco però no sono solo soldi in più che noi dobbiamo dare a Apple quindi questa cosa è una cosa che mi ha fatto stranire e non si può sentire mi sembra una grande paraculata e mi sembra una grande presa in giro un caricatore del telefono ci deve assolutamente stare non si può sentire che un telefono esca solamente con il cavo e quando arrivo a casa devo provvedere io a come caricarlo e con che cosa caricarlo va bene per le cuffiette perché ci possono stare e non ci possono stare ok non tutti le usano vabbè quello lì è un fattore a parte adesso poi con tutte le cuffiette wireless molte volte neanche io uso tanto le cuffie con il cavo però vedo che molte persone al tempo stesso le utilizzano quindi ecco era comunque un prodotto da tenere nella confezione anche perché parliamo di un telefono che non è che è sceso il prezzo è sempre quello il prezzo loro hanno solo tolto gli accessori ma il prezzo è rimasto sempre quello io avrebbe anche potuto capire ok mi togli gli accessori ma mi abbassate il prezzo poi se io lo voglio me lo fate diciamo ripagare me lo fate acquistare allo stesso prezzo o comunque allo stesso costo di quello della differenza che mi avete tolto sul prezzo completo dell'iPhone sul prezzo finale invece no ci fanno pagare l'iPhone sempre 1200 1500 euro perché questi iPhone 12 Pro cosa mi sono scordato di dirvi il 12 Pro parte da 1200 euro 1189 il 12 Pro Max parte da 1289 quest'anno fortunatamente non da 64 giga da 128 giga quindi già è possibile acquistare solamente la versione la prima versione di base però non si può sentire che se io devo andare ad acquistare la versione da 512 o da 256 a 1400 1600 euro non mi esca il caricatore e me lo fate sempre comunque pagare a prezzo pieno queste qua non ho potuto sopportare e poi spero nel prossimo anno in qualcosa di differente ragazzi io mi sono stufato a tirare fuori l'iPhone e lo porto davanti a me è sempre la stessa padella è sempre lo stesso design è sempre la stessa cosa cioè quando sono passato dall'iPhone X all'iPhone 11 Pro Max non ho mai trovato un reale cambiamento cioè mi sembra di avere sempre lo stesso smartphone in mano quindi servirebbe con il tempo e mi aspettavo quest'anno sperando l'anno prossimo servirebbe un aggiornamento un diciamo un rinnovamento generale di questi iPhone servirebbe una svecchiata al design so che in molte aziende dall'altra parte non è che stanno facendo grandi passi da gigante a parte Samsung che l'ho apprezzato tantissimo che ha prodotto il suo foldable e devo dire che è molto utile è funzionale e lo ritengo uno dei punti diciamo più belli più interessanti oggi nelle parti della tecnologia nel settore degli smartphone in generale perché lo ritengo un terminale di punta ad oggi uno a cui si può fare riferimento come azienda perché perlomeno loro hanno cercato e sono anche riusciti a innovare a proporre qualcosa sul mercato di nuovo qui invece Apple è totalmente piatto quando una volta erano loro ad innovare e gli altri poi a seguire quest'anno negli ultimi anni da quando sinceramente devo dire è andato via Steve Jobs sembra che la Apple abbia rallentato mandi avanti gli atti per proporre nuove tecnologie nuove cose e poi lei pian piano arriva un paio d'anni per solamente non per proporre cose nuove ma solamente per livellarsi e per allinearsi la concorrenza ecco questo qui non me l'aspettavo più non me l'aspetto da un'azienda come Apple e non me lo posso aspettare perché devo dire che mi sta un po' deludendo negli ultimi anni sicuramente poi questo qui sarà un telefono questi 12 che andremo a vedere andremo a recensire comunque perché comunque ho un canale YouTube è chiaro che non vi posso non portare una recensione degli ultimi iPhone perché sono fra i telefoni che vanno più in voga o comunque sono fra i telefoni più commerciali e dove ci sono anche più gadget dove a me anche mi interessano però è chiaro che non è che per tutti i telefoni che recensisco posso parlare bene è chiaro che io sono un tipo abbastanza oggettivo quindi dico sempre la mia e se c'è qualcosa che devo dire di negativo è sicuro che ve lo dico ma adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate ragazzi anche di questi nuovi iPhone 12 12 Pro 12 Mini fatemi sapere la vostra idea quale preferite se l'avete già per ordinato o quale sceglierete e fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate riguardo questa politica Apple riguardo il design di questi nuovi iPhone soprattutto non solo riguardanti il settore degli iPhone ma un po' anche confrontandole comparandole con tutto il settore Android questo qui è un discorso che sicuramente non avrà fine molti Apple fan sicuramente mi odieranno però comunque è un discorso che io ritengo abbastanza oggettivo da fare e sia la verità comunque detto questo ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale qui di YouTube e noi ci vediamo la prossima video recensione da Tems Gadget Fiorgio buona giornata a tutti e grazie ancora for all time sake ciao a tutti Ciao!